Il programma Obiettivo Informazione è offerto da Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, un luogo. 130 anni, una banca. Buonasera, riprendiamo da questa sera proprio le incontri con gli amici per parlare dei problemi che quotidianamente si incontrano nella vita quotidiana di tutti i giorni per vedere se troviamo delle soluzioni appropriate tali da migliorare la nostra attività. Questa sera parliamo della gestione dei nostri risparmi per vedere se da questa gestione in periodi di crisi e penuria come gli attuali si possa ricavare qualcosa di più e di meglio per la nostra conduzione familiare. Ne parliamo di risparmio questa sera con degli esperti che sono qui al tavolo insieme con me e il primo è il professor Aldo Bompani che vorremmo presentare, però il professor Bompani non ha bisogno di presentazione, è noto a livello regionale ma anche nazionale per la sua attività didattica pluriennale e della sua attività professionale. Ne parliamo con Francesco Bosio che è il direttore della Banca di Cambiano, anche lui non ha bisogno di presentazione perché ormai la Banca di Cambiano a livello regionale è diventata una banca di importanza di non poco conto e ne parliamo poi con Emiliano che invece tutti i giorni gestisce il risparmio e quindi è un operatore del settore. Entriamo nel vivo della discussione, avvierei subito per dire ma nella attuale situazione economica chi sono i gestori del risparmio a cui ci si può affidare con ragionevole certezza? Direi le strutture consolidate, cioè gestori del risparmio così come si chiamano e spesso sono società e altrettanto spesso sono banche che abbiano già uno standing, una fama nell'ambito della gestione del risparmio e soprattutto diffiderei da quei soggetti che si incontrano in ricevimenti appositamente organizzati due episodi ultimi di truffe di risparmiatori per cifre non indifferenti, in un caso 35 milioni di euro e in un altro caso una somma leggermente inferiore ma appunto i cosiddetti Madoff italiani, Madoff un truffatore americano addirittura che ha truffato miliardi di dollari e quindi dubitare di questi ricevimenti in cui si incontrano fortuitamente delle persone, in cui si rimane abbagliati diciamo dal contesto generale e invece affidarsi a strutture consolidate quindi banche che da tempo sono sulla piazza, sono sul mercato, gestori, due società sono quotate in borsa addirittura e quindi sono soggette anche alla sorveglianza delle autorità della Consob che è l'agenzia appositamente preposta a questo fine c'è da tener conto poi di due variabili ma di questo ne parleranno i banchieri che al rendimento si accompagna sempre il rischio e che bisogna essere titubanti per non dire dubbiosi quando si offrono rendimenti eccezionali, ci diranno poi loro quali oggi possono essere ritenuti dei rendimenti normali Altro aspetto, il frazionamento del rischio Allora, ci sembra di capire che il gestore del risparmio non può essere trovato in una manifestazione fieristica o diciamo in un incontro stile di quelli dove si vendono i cosmetici o le pentole Questo è quello, ecco, quindi va trovato e ci sembra di capire che il canale preferenziale ovviamente per i gestori del risparmio è quello bancario Certo Allora, io passerei a Francesco Bosio per chiedergli ma la banca di Cambiano che si definisce banca del territorio che cosa offre ai risparmiatori della nostra comunità? Dunque la banca di Cambiano più che definirsi è in realtà una autentica banca del territorio Svolge questa attività ormai da oltre 130 anni E come la tipologia delle banche territoriali ha come caratteristica quella di integrarsi in maniera stretta con i territori in cui opera Molte banche, specie le più grosse, necessariamente vedono i territori come aree del loro mercato Come zone in cui operare Come settori dai quali possono attingere risorse finanziarie per poi destinarle ad investimenti anche in altre zone Magari anche in altre nazioni La banca autenticamente del territorio invece è quella che È radicata nel territorio, ne condivide la storia, le tradizioni, la cultura Gli sviluppi economici E la banca del territorio raccoglie le risorse finanziarie prodotte in quel territorio E le reinveste principalmente per favorire e sostenere lo sviluppo di quel territorio Quindi è una realtà bancaria che è fortemente caratterizzata da un valore sociale Che rappresenta proprio per questa integrazione stretta con il territorio Fino a divenirne una parte attiva efficace Questo è l'elemento valoriale che distingue la banca del territorio dalla banca di un altro tipo Si può affermare che la banca del territorio è la banca di casa, la banca di famiglia Dove io come famiglia a quella, in quel territorio mi posso rivolgere perché so di essere di casa Ma la banca del territorio che interpreta in maniera completa e corretta il suo ruolo Ha come risultato naturale della sua attività Proprio quello di far sentire il cliente in una realtà che è sua, che gli appartiene Ma la vera banca non è quella che solo lo fa sentire Ma è quella che naturalmente si pone in quest'ottica Questo non significa che ci sia facilità, non rispetto delle norme, non selezione o quant'altro Anzi, esattamente l'opposto Stante il valore che rappresenta il risparmio Che è il frutto del lavoro, il frutto della prudenza delle popolazioni delle zone in cui la banca opera A questa ricchezza finanziaria il doverla reinvestire sul territorio dove è stata prodotta Si attribuisce un valore enormemente superiore rispetto a quanto non può fare un operatore a livello nazionale Se non internazionale che vede nei movimenti finanziari una finalità diversa Quindi la banca del territorio è autenticamente la banca di casa tua Dottor Bosio, posso interferire per agganciarmi a quanto dicevo poco fa Oltre a questo legame col territorio La banca di Cambiano mi pare di ricordare anche una banca consolidata nel tempo Quindi ritorna, dottor Deco, il requisito di cui prima si diceva della banca solida E della banca mi pare di ricordare che è cresciuta gradatamente passo dopo passo Per assumere le attuali dimensioni Quindi ecco per riallacciarmi a quello che dicevo prima Diciamo c'è anche questo elemento da tenere in considerazione Bene, abbiamo definito chi è soggetto appropriato a gestire il risparmio Ora tocchiamo un tasto dolente Abbiamo detto che il soggetto appropriato sono le banche E i risparmiatori però che cosa dicono? No, io ho il conto corrente con la banca E in tutto l'anno, quest'anno, 2014 Ma anche i primi mesi del 2015 Interessi zero o poco più di zero Chiediamo a Emiliano Ma c'è una scala dei tassi? C'è una remunerazione sui depositi dei nostri risparmiatori? E che cosa devono fare i nostri, le nostre donne di casa Per avere un po' di interesse alla banca? Perfetto, la ringrazio della domanda Perché poi è quotidianità questa domanda E spesso tante persone che si accostano al risparmio Vorrebbero rendimenti un pochino più interessanti Senza rischiare o comunque senza mettere in discussione Il proprio sudore che con tanta fatica hanno messo da parte E volevo infatti introdurre anche il discorso Appunto del ruolo che come banca di Cambiano Ma come banca del territorio importante Quello della salvaguardia di quello che è Il risparmio e appunto il sudore Che con fatica tante persone hanno messo da parte In questo momento siamo in un momento di estrema delicatezza Perché i tassi sono purtroppo a zero E ovviamente ce ne siamo resi conto un po' tutti Anche dopo quello che è stato il quantitative easing da parte di Draghi C'è una forte iniezione sui mercati di liquidità E questo ha portato ovviamente i tassi ad abbattersi fino allo zero Infatti i bot che tanti anni fa hanno fatto la felicità di tante persone Oggigiorno non danno più il rendimento E quindi ci stiamo guardando intorno In quelle che possono essere soluzioni capaci Di dare un rendimento soddisfacente Senza essere a rischio il capitale E qui arrivo a dire che la banca di Cambiano Come sempre ci sottolinea il nostro direttore Che il nostro primario importanza è la salvaguardia del capitale del nostro cliente E andiamo a cercare quelle che possono essere soluzioni Sempre in un'ottica di totale tranquillità Ecco ma senza girare intorno al problema Io ho 50.000 euro di risparmi Certo Su un conto corrente Come posso investirli e ottenere un rendimento? Allora Buona domanda Non è semplice assolutamente Ovviamente la prima cosa da fare E noi si parte avvantaggiati E' conoscere il cliente Conoscere il cliente significa Conoscere il cliente nelle sue avversioni al rischio Nei suoi obiettivi In quello che ha da fare nel futuro E lì andiamo poi a costruire Quello che può essere un portafoglio adatto Alla persona Perché ovviamente non esiste un investimento A monte che va bene per tutti Quindi se mi si presenta ovviamente una persona Che ha disponibilità di 50.000 euro Ovviamente si aprono tutta una serie di operatività Che in base poi al profilo di rischio del cliente Andiamo a sottoporre e a spiegare E' lì che è il vantaggio di una banca come la nostra Che è diciamo molto vicina alla persona Alla casalinga Alla persona che torna a casa la sera stanca E non ha tempo di informarsi su mercati Di essere continuamente attento all'opportunità Quindi noi il ruolo importante è quello di mettersi lì E insieme trovare la soluzione migliore Cosa? L'operatività della Cambiana è completa Quindi si può andare tranquillamente Su titoli di Stato di qualsiasi emittente Fondi, ETF, SICAB, qualsiasi cosa Ma oggi io quanto potrei ottenere? Coraggio Diamoci per esempio dei punti di riferimento A 10 anni un BTP rende l'1,26 E a 15 anni un l'urdo Un trentennale siamo a un 2,10 Quindi tutto quello che si allontana Da questi rendimenti qui Che sono definibili risk free Cioè rischi a tasso zero E quando si parla di rischi a tasso zero In riferimento all'Italia Ovviamente viene da sorridere Perché ovviamente come paese abbiamo i nostri problemi C'è da capire quali sono i rischi Per esempio per non fare pubblicità Ma in un portale importante Vengano fatte le classifiche Per esempio delle euro obbligazioni Che possono essere comprate da tutte Arriviamo addirittura a trovare obbligazioni Che arrivano al 7,25 Però bisogna stare attenti E' qui che è l'importanza Della professionalità Dell'onestà Del rapporto che la banca di Cambiano Vuole trasferire al proprio cliente Cioè nel momento in cui Ci si avvicina a rendimenti così Pieni Il problema è capire Nelle pieghe dell'investimento Dove si nasconde la motivazione A tutto c'è un perché Comunque oggi si può dire Che a rischio zero Non si può chiedere un tasso Superiore In finanza il rischio zero non esiste Intanto per essere Precisi Nel senso A tutto va associato Un rischio Noi Banca di Cambiano Preferiamo operare Nella totale tranquillità Per i nostri clienti Cercando di andare Poi a diversificare Il portafoglio Per trovare Quell'equilibrio Che meglio può dare Un rendimento interessante Però Non possiamo In un mercato Dove l'equilibrio È molto vicino Agli zero Trovare rendimenti Che sono intorno A un 3-4% Senza rischio E il rischio Quando si parla Per esempio Di obbligazioni Che è un nome Che non rende Tanto l'idea Ma obbligazione Uguale Titoli di debito Cioè io D'un'azienda Mi acquisto Il debito Non mi acquisto L'immobile Ma entro in proprietà Di un pezzo Di debito È importante Che il risparmiatore Riesca a comprendere Bene Che quel 3-4% Che va a prendere È Un equilibrio Giusto Di un rischio Che sta in quel momento Sopportando Bene Abbiamo capito Mi inserisco Scusa Bruno Allora Alto rendimento High yield Il lessico Qui è prevalentemente Anglosassone Si dice Che i titoli Ad alto rendimento Sono lo stato Iniziale Dei junk bonds Cioè Dei titoli Facottiglia Dei titoli Che a distanza Di un tempo Più o meno breve Non varranno nulla Esatto Quindi stare attenti Anch'io Sottoscrivo pienamente Quello che lei diceva E sta succedendo Questo Per Confermare Professore Quello che sta dicendo Che la ricerca Del tasso Ha prodotto Che anche i gestori Stanno andando A comprare Via via Tutti i titoli Che un po' di rendimento Hanno Alzando Il rischio Perché ovviamente Piano piano Stanno venendo meno Le disponibilità Di quei titoli Che ovviamente Presentano caratteristiche Più sicure Quindi Cosa sta succedendo Per trovare rendimento Ora si va A prendere Sempre di più Il rischio Più alto E quindi Attenzione A chi In questo momento Non ha Specifiche competenze Perché il rischio Di ritrovarsi Indomani Non solo La renumerazione Non distribuita Da parte della forma Ma anche La messa in discussione Il capitale A noi suggeriamo Ovviamente La prudenza E l'abbandono Del rischio Ma appunto Proprio su questo punto Abbiamo detto Chi ha 50.000 euro Di risparmi E quindi Deve abbandonare Il rischio Perché quello È il frutto Di tanta attività Lavorativa E quindi Abbiamo capito Chi e quanto Può pensare Di ottenere Dall'1 al 2% Ora c'è anche Chi ha qualche cosa Di più Di 50.000 euro Quindi qui si pone Un problema Non solo di un rischio In senso generale Ma di frazionarlo Questo rischio Te Aldo Cosa ci potresti Consigliare Nel frazionamento Del rischio Anche qua Ci sono massime Consolidate Un vecchio proverbio Non mettere Tutte le uova Nello stesso paniere E quindi Frazionare Frazionare In che senso Tra tipologia Di titoli Esatto Come diceva Il nostro amico Emiliano Di valute Frazionamento In ordine Alle aree geografiche Perché nonostante La globalizzazione E noi Lo viviamo Sulla nostra pelle Ci sono aree Del mondo In cui ancora I progressi Sono eccezionali Anche se Hanno subito Una leggera flessione E questo L'estremo oriente E questo Anche gli stati uniti D'america Quindi si raggiungerebbe Anche Un frazionamento Valutario E l'Europa Che insomma Sta uscendo Ora Dalla Dalla crisi Quindi Frazionamento Per tipo di titoli Frazionamento Per aree geografiche Frazionamento Anche Per tipi Di attività Economica Nelle quali Si va a investire Là dove si faccia Una scelta azionaria E quindi È il principio Cardine Dominante Stuti alti Ecco un altro aspetto Che metterei in conto Anche la scadenza Io Un trentennale A un risparmiatore Non glielo Il rendimento È un 2% Ma Se Tra 5 anni E sono prudente Scoppierà Il boom Probabilmente Quindi Aumenteranno I tassi Di interesse Probabilmente Anzi Sicuramente Ne risentiranno In linea Quotazione L'acquisto Questo è importante Sottolinearlo Nel senso Che i titoli A tasso fisso In questo momento Presi In questo momento Qui Quando i tassi Aumenteranno I prezzi Scenderanno La quotazione Scenderà Quindi bisogna stare Molto attenti Perché effettivamente Chi poi dovrà Liquidare Quella posizione Per vari motivi Si può ritrovare Perdite Importanti Anche in conto capitale Ma dicevo La casa di abitazione È il primo investimento Secondo me Sì Per chi non ce l'ha È bene Bene consolidare In brick and mortar Anche qui L'espressione inglese Che vuol dire Mattoni e calcina Nonostante tutto Sì Perché i prezzi Sono depressi Anche sull'immobiliare E quindi Chi abbia Le disponibilità E potendosi Dottor Bosio Fare aiutare Magari Da una banca Ma cercare Di fare lo sforzo Di acquistare La casa Per investimento Forse una seconda casa Ma non mi spongerei oltre Ma per chi ancora Non ha Un tetto di proprietà Sulla testa Abbiamo detto Chi ha la casa E chi ha i risparmi Poi abbiamo detto Frazionate il rischio Andiamo avanti Farei un'osservazione In questo senso In momenti Come questi Dove I tassi Sono Al ribasso Dove Fioccano Sirene Che sono Allettanti Scatta Un meccanismo Molto pericoloso Che viene Identificato Come finanza Emotiva Il risparmiatore È portato A Neppure Sottovalutare Ma non A valutare È il rischio A tratto Dal rendimento Che viene Offerto Dalla struttura A O dalla struttura B O peggio Dall'amico Che al bar Ti dice Che a me Hanno proposto L'investimento Che mi rende Questo tasso Straordinario A te Non ti fanno Guadagnare Nulla E Inevitabilmente In queste Situazioni Il soggetto Che sarebbe Quello penalizzato Rispetto All'amico Che porta Guadagni Straordinari Si sente In qualche Maniera Tradito Dalla sua Banca O dal suo Consulente Non è così Bisogna Che il Il cliente Il risparmiatore Abbia sempre Chiaro L'aspetto Della Banca Della quale Si serve Del consulente Del quale Si serve E qui ci deve Essere Il vero Fondamento Del rapporto Qui ci deve Essere Il rapporto Fiduciario Che è Sì Da parte Della banca Nei confronti Del cliente Ma anche Deve essere Da parte Del cliente Nei confronti Della banca E qui Gioca La grande Differenza Tra le varie Tipologie Di banche O di società Che gestiscono Il risparmio Di cui faceva Cenno Il professor Bompani La banca Del territorio Ora noi parliamo Della Cambiano Perché siamo Parte di questa Trasmissione Ma Ritengo di poter Spendere la parola Per tutte le banche Autenticamente Del territorio Questa tipologia Di banche Interpreta Il rapporto Con il cliente Non Nella breve Durata Toccata E fuga Operazione Per operazione Ma nella durata Nella stabilità Nella progressiva Creazione Di un rapporto Fiduciario Questo è il grande Valore Che deve essere Percepito Dal cliente E che deve essere La molla Che non ti fa Sentire in casa Ma ti dice Che sei in casa Queste Queste non sono Frasi fatte Sono gli elementi Su cui si fonda La filosofia Della banca Del territorio La nostra Che è la più antica Banca di credito Cooperativo Operante In Italia Ormai Oltre 130 Anni Ha questo fondamento E su questo Ha creato Quello di positivo Che è stato fatto E che sarà fatto In futuro Condivido in pieno Quello che dice Il direttore Bosi Siccome siamo arrivati In chiusura Di questo Nostro Primo incontro Prima appunto Di salutarci Volevo chiedervi Un'ultima cosa Diciamo L'investimento In bot Oggi Visti i tassi È ancora Suggeribile Tenuto conto Fra l'altro Si diceva Che il rischio zero Non sussiste Nemmeno per i bot E In alternativa La banca Oltre a offrire Titoli Obbligazioni Ha qualche altro Strumento Assicurativo Per esempio Da suggerire A nostri risparmiatori Allora In termini Rispondo alla prima domanda In termini di parcheggio E quindi in termini di attesa Perché quello che stiamo cercando di superare Cioè la crisi È Un periodo Quindi Se L'attesa È di breve periodo Perché L'obiettivo della famiglia Del cliente È di breve Possiamo eventualmente Andare a trovare Delle forme Che investono In titoli Di breve scadenza Dove Ovviamente C'è a monte Un gestore E quindi Potremmo eventualmente Andare a diversificare Fra titoli di Stato E eventualmente Quindi fondi comuni Monetari Per quanto riguarda i bot Ovviamente I rendimenti Sono azzerati Quindi Diventa difficile Andare a comprare In questo momento Un bot In questo momento Siccome la macchina cambiana È operativa Su qualsiasi Strumento A disposizione Sia a livello nazionale Che internazionale Le polizze Sono anch'esse Un valido In questo momento Un valido strumento Perché Hanno nei loro meccanismi Il prezzo Al costo storico Dei titoli Contenuti Nella gestione separata Cioè Che Il gestore Nel momento in cui Ha comprato i titoli In tempi passati Quando i rendimenti Erano più alti L'ha Tenuti A quel costo lì Non le valorizza Come invece succede Per i fondi comuni E per le SIGAV E quindi Un BTP Che gli rende il 5 In portafoglio Gli rende il 5 Fino a scadenza Perché nascono Con Una natura Previdenziale E quindi Normativamente Parlando Hanno questo vantaggio Si inseriscono Quindi In maniera interessante In una diversificazione Al cliente Come diceva Appunto Professor Borpani Ecco Un flash In chiusura Proprio Ai nostri Telespettatori Gli possiamo dire Che devono gestire Il loro risparmio Tempo per tempo O è possibile Affidarsi alla banca In maniera tale Da poter dire Io I miei risparmi So che sono gestiti Al meglio Per sempre Io Come diceva Il nostro direttore Il nostro obiettivo È quello di Avere il cliente Per sempre Quindi Questo è un momento Che insieme Con il cliente Affrontiamo Senza Per noi Dover sopportare Enormi rischi Perché si sta parlando Del sudore della gente Se dobbiamo In qualche modo Accontentarci Di qualche virgola A meno Lo vogliamo fare Nel rispetto Dei nostri clienti Perché poi Le cose Cameranno E non deludere E non deludere Bene Grazie E a venerdì prossimo Con un'altra puntata Bene Arrivederci Arrivederci Buonasera Il programma Obiettivo Informazione È stato offerto Da Banca di credito Cooperativo Di Cambiano Un luogo 130 anni U